Non ti ho mai visto così elegante? Adesso sei ambasciatore? Ambasciatore non porta pena? No, tra l'altro voglio... È giusto che io dica una cosa, cioè questa. È l'ultima volta che faccio lo s*****o in giro per voi. Da domani divento una persona seria, farò l'ambasciatore dell'Expo. Cosa vuoi fare un ambasciatore? E c*****o ne so io! Dovevo sposarmi con Maurizia c*****o. Che c*****o! Niente, aspetta. Aspetta. No ragazzi, io giuro, è l'ultima volta da domani diventata una persona seria. Però adesso lasciatemi sfogare, la racconto come se fossero cose intelligenti. Va bene, niente, dovevo sposarmi, il 26 vado a prendere il dado. Dovevo sposarmi il 26 di giugno a Portovena, una c*****o ragazzi. Va bene, mi ricordo una volta al Pineta avevo fatto spegnere... Va bene, ma non aprire parentesi in continuazione, voglio sapere come andava. Sono come mia mamma, mia mamma fa così. La prossima volta chiamando mia mamma che è peggio. Al Pineta avevo fatto spegnere la luce, la musica, chiedendo a lei davanti a tutto il Pineta. Maurizia, mi vuoi sposare? E lei, mezza ubriaca, sì. E faccio, siete tutti invitati al matrimonio. E due, tre miglia persone, il Pineta, vabbè. Che classe! Niente, mancano 20 giorni al matrimonio, lei giocava a Tenerife, io giocavo a Bologna. Guido la mia smartina, scusate bevo perché sono un po'... Vai, vai, vai! E niente, sto tornando a casa con la mia smartina, ma arriva la telefonata della Maurizia. Allora, rispondo al telefono, c'è un telefono? Faccio finta, rispondo al telefono. Ciao! No, lei c'è la voce così. Ciao Gianmarco! Ciao Gianmarco! Come Batman! Sempre avuto il dubbio fosse un transessuale. Sto scherzando, Mauri, dai! Sapevo che non eri un trans. D'altronde, se è arrivata tanto così dallo sposarti, un po' ti conosce. Prima volta ti ho toccato il pacco, ho capito che non eri un trans, vabbè. E gli faccio, ciao Mauri, dimmi. No, niente Gianmarco, ti devo dire una cosa. Eh, dimmi, che c'è? Niente, guarda, mi sono innamorato di un altro e sposo un altro. A quanto dal matrimonio? Quanto? Dovevi venire? Dovevi venire al matrimonio, vieni qua, come ti chiami? Eri anche tu al Pineta tra gli invitati? Ecco, è l'unica con la giacca più brutta della mia. Dai! Eri tra gli invitati? Niente, ciao. E tu? Ma mi hai fatto regalo? No, non mi hai fatto regalo. Andate avanti voi. E tu? E voi in una situazione del genere cosa fate? Eh, cosa fai contro il guard rail? E mi dice, Gianmarco, mi sono innamorato in un altro e non ci sposiamo più. E io ragazzi, l'unica domanda, mi è venuta in mente, ma anche per curiosità, vera, eh. E io, come c***o si chiama? Ah, scusa, come pivot si chiama? E uno è interessante, no? Quanto meno, no? Non è che posso mandarmi un selfie, no? E lei mi ricorda e mi dice, Toledo. Toledo? Come la Seat? E che c***o è un ghiacciolo?